Professor Varrassi, in questo momento il suo grado di popolarità non è al massimo storico, si può dire così? Dipende dai punti di vista, per me sto lavorando molto bene, dopo domani inaugureremo la seconda UCCP che è una unità complessa di cure primarie, cosa che ha avuto un successo strepitoso già in Villa Rosa inaugureremo questa seconda a Sant'Egidia alla Vibrata ho avuto recentemente, come è comparso sui media, un'altra riprova della nostra efficienza che ha mostrato chiaramente come la ASL di Teramo sia la meno indebitata in assoluto nella regione Abruzzo cioè noi abbiamo un debito nei confronti dei nostri fornitori che è di un milione e mezzo di euro mentre al contrario, che so, per esempio quella di Pescara che è la seconda migliore dopo di noi per 19 milioni, quindi questo mi sembra un segno di efficienza Questa raccolta di firme contro di lei fatta a Teramo, cosa le fa pensare? Ma non lo so, non voglio pensarci a queste cose io, anche se vengo molto criticato perché dico la verità, vedo molta gente che mi manda messaggi via Facebook e personali con cui il nostro lavoro viene molto apprezzato parlo del lavoro di un team che si è costituito all'interno dell'azienda e che sta facendo delle cose egregie che sono sotto gli occhi di tutti ma le persone che oggi criticano determinati atteggiamenti di una commissione paritetica che ha inteso restringere alcuni convenzionamenti con tre direttori di unità operativa complesse che sono professori universitari sono le stesse che due anni fa hanno criticato l'atteggiamento dell'azienda che ampliava l'offerta di responsabilità convenzionate con l'Università dell'Aquila io non so se questo è un fatto strumentale o cosa ma certo è un dato di fatto